Bentornati al canale Amo gli italiani, con le ultime novità di oggi. Justin Matera ha raccontato il dramma della sorella Jessica La donna sarebbe ad un passo dalla morte, la terribile rivelazione. Una delle personalità televisive degli anni 90 è Justin Matera Arrivata in Italia nel 1994 per completare gli studi in lingua e letteratura italiana, nel 1995 ha avuto la fortuna di essere notata dal DJ e produttore discografico Giuseppe Troccoli e ha iniziato a collaborare a diversi progetti Tra questi troviamo il brano Philippe che in Italia è riuscito a vendere 24.000 copie, giungendo al secondo posto nella hit parade italiana. Ma la svolta professionale è arrivata con il suo trasferimento a Milano Proprio nel capoluogo Meneghino, Paolo Limiti notò la sua somiglianza con Marilyn Monroe, chiedendole di partecipare alla trasmissione Ci vediamo in tv, che è andata in onda dal 1996 al 2002 Da lì la sua carriera televisiva ha preso il volo. In queste ore però Justin sta vivendo un vero e proprio dramma, a causa delle condizioni di salute della sorella Jessica Infatti sembra proprio che la donna sia in fin di vita. La rivelazione è arrivata nel corso di un'intervista a Verissimo Justin Matera è il dramma della sorella, è in fin di vita.Justin Matera, ospite di Verissimo, si è aperta sul dramma che ha coinvolto la sua famiglia nelle ultime settimane Sua sorella Jessica ha subito un trapianto di cuore, un intervento delicato che ha messo a dura prova la vita della donna Proprio la storia della donna è segnata da tragedie e difficoltà A 11 anni un tumore le ha causato danni significativi al cuore e ai polmoni a causa della radioterapia necessaria per curare il linfoma Ma le sfide nella vita di Jessica non sono di certo finite qui Il percorso di Jessica è stato segnato da ulteriori sfide, compreso un tumore al seno a 28 anni, attribuibile agli effetti collaterali delle radiazioni subite negli anni 80 Nonostante le difficoltà, Jessica ha affrontato la malattia, si è sposata e ha avuto due figli, uno dei quali è autistico La sua vita è stata segnata da traumi tra cui la perdita del marito a causa di un incidente stradale Justin ha rivelato che lei e Jessica hanno avuto un rapporto conflittuale per gran parte della loro vita, con Jessica che si chiedeva il motivo per cui Justin fosse sempre stata in salute mentre lei lottava con problemi di salute Il litigio estivo dell'anno scorso le aveva portate a dire frasi dolorose, ma quando Justin ha appresso delle condizioni critiche di Jessica è subito volata da lei La showgirl ha voluto condividere un momento toccante in cui Jessica, appena risvegliata dall'operazione di trapianto ha riconosciuto Justin come una presenza che l'ha aiutata a combattere i suoi demoni interiori Questo ha anche segnato la fine del conflitto tra le sorelle, aprendo al strada una riconciliazione La storia di Jessica è anche un esempio di resilienza e forza di volontà, mentre la reazione di Justin mostra tutto l'amore e il sostegno familiare nei confronti della sorella Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video